Non ti dà un ufficio, non ti dà un ufficio, non ti dà un ufficio, non ti dà un ufficio. Hai capito? Non dovete uscire con me, ma che lascia con me? Ma che sei tu? Chi sei tu? Non ti dà un ufficio, non ti dà un ufficio. Irruzione con qualche momento di tensione, blitz di una delegazione di lavoratori e sindacalisti presso gli uffici della sede IMSS di Avellino. Gli operai dell'industria italiana autobus chiedono venga liquidato il TFR, la parte a carico dell'Istituto di Previdenza, maturato negli anni in cui hanno lavorato per Irisbus, così come previsto dall'accordo stipulato tra le parti. Non solo, è stata avanzata anche la richiesta di ottenere un ulteriore anticipo di cassa integrazione, troppo pochi, infatti i 500 euro che attualmente le tute blu percepiscono. All'incontro presenti tutte le sigle sindacali tranne la CISL. Saolino, blitz dei lavoratori dell'industria italiana autobus all'INPS questa mattina per affrontare tra l'altro anche il tema della liquidazione, come è andata? Possiamo dire che è andata bene perché abbiamo incontrato il direttore e il responsabile dell'area e tutti hanno capito che noi facciamo sul serio, che di fronte a 4 mesi persi tra chiacchiere, parole inutili, eccetera. Ci stanno 280 persone che vivono con 500 euro al mese, mentre qui ci sono alcune decine di milioni di euro versati dall'azienda precedente che devono essere trasferiti ai lavoratori e se non avessimo fatto questa protesta la storia si allungava di altri mesi, però a questo punto dalla prossima settimana si fa sul serio, entro un mese i lavoratori percepiranno quelli che sono i loro diritti e cioè la liquidazione dei 20 anni precedenti. È stato affrontato anche il tema dell'anticipo della cassa integrazione, ci sono arrivate notizie anche su questo fronte? Sì, diciamo che per fine mese c'è il rinnovo della cassa integrazione e per questo motivo chiediamo all'azienda di fare uno sforzo in più per i lavoratori e chiedere proprio l'anticipazione piena, cioè non più 500 euro al mese ma l'intera somma. Ninno, si può dire un incontro soddisfacente questo mattina? Ma gli incontri sono sempre soddisfacenti, poi bisogna vedere se alla fine vengono mantenuti gli impegni. La cosa assurda in quest'Italia fatta in un certo modo che uno per avere quello che gli aspetta deve andare a chiedere, sembra che ti facciano un piacere. Questo penso che in un'Italia normale non dovrebbe succedere, cioè noi non dovremmo venire qua sotto all'Inpes per farci dare il dovuto.